C'è stata una grande partecipazione popolare, tantissimi giovani, una grande emozione, sicuramente è stato ed è un dolore enorme perché è una morte assurda, una morte senza motivo, questo chiaramente colpisce tutti nel profondo del proprio cuore, però è anche o deve essere anche un'occasione per avere una partecipazione civica sempre più presente in città, Napoli se vuole liberarsi di questi suoi fantasmi lo deve fare con un grande impegno delle istituzioni ma anche con un grande impegno dei cittadini, quindi se noi partendo da questa morte terribile che poi non è solamente l'ultima, dobbiamo ricordare Francesco Pio che si è scomparso qualche mese fa in circostanze simili e le tante altre vittime innocenti o della violenza o della mafia, della camorra, se riusciamo a reagire, se diamo una prospettiva positiva alla nostra città significa che queste morti non sono state inutili, noi dobbiamo tutti fare di più, chiunque rappresenti un'istituzione politica, amministrativa, spirituale deve dare sempre qualcosa in più, quindi poi dall'impegno quotidiano si misura l'efficacia dell'azione delle persone, quindi io prendo da quest'omelia la spinta a fare sempre di più, a fare sempre a fare sempre attacchi Grazie a tutti